Mondo Fitness 12 settembre 2014 eccomi qui insieme a Miguel Cris Buonasera a tutti, benvenuti, sono contento che questo evento è colmo di gente e fare beneficenza è sempre una cosa che riempie il cuore sono veramente contento, poi siamo in questo luogo che io conosco bene perché come tu sai sono di Roma anche io e sono contento di essere stato invitato per cantare qualche pezzo questa sera volevo cantare la mia canzone forse la più famosa, quella che evidenza i problemi sociali i problemi che l'Italia sta attraversando e non parlo di politica, questa sera parlo di malasanità nella mia canzone c'è la parola malasanità e la voglio cantare proprio perché questo è un tema importante siamo qui stasera, lo ricordiamo, per comprare questo macchinario che costa tantissimo e quindi la beneficenza è per qualcosa di veramente importante la MOC ricordiamo per i bambini che hanno questa malattia rara delle ossa esattamente sì, è una cosa ripeto, sono recidivo, è molto molto importante fare beneficenza sono venuto con tutto il cuore questa sera e sono contentissimo di vedere tantissima gente che sta facendo beneficenza andiamo avanti così e speriamo che l'Italia a differenza di quanto dice la mia canzone possa migliorare e che la mia prossima canzone possa essere una canzone di più rosia noi ce la curiamo tutti quanti e ti ringraziamo anche per il tuo impegno Michele grazie a voi e buona serata Roma Fitness, Cristian Paoloni, Miguel... Miguel Cris Roma Here, io sono vorrei